buongiorno oggi faremo il video per vedere il funzionamento di un forno nerone della tecnodom elettrico allora la macchina è stata attaccata alla presa della corrente adesso andremo a vedere il funzionamento sia del timer che dell'impostazione della temperatura per permettere al forno di funzionare se andiamo a muovere solo la manopola dei gradi non partirà quindi dobbiamo prima impostare il timer qui mettiamo verso infinito quindi non avremo un tempo invece se vogliamo impostare i minuti ci muoviamo in quest'altro senso qui invece andiamo a impostare appunto la temperatura da zero mettiamo al massimo quando il forno raggiungerà la temperatura si spegnerà qui la luce all'interno le ventole sono partite dotato di doppia ventola di luce ovviamente andando aprire le ventole si fermano come chiudiamo riprenderà da dove si è fermato adesso dobbiamo solo attendere che la macchina arrivi a temperatura allora vediamo la temperatura interna piano piano come sta salendo allora come vediamo la luce si è spenta perché la macchina è arrivata a temperatura ovviamente per spegnere andiamo a bloccare il timer e riabbassiamo grazie della visione